buonasera buonasera a tutti voi per questa nuova diretta buonasera a tutti voi collegati come vedete come sentite vediamo un po se riusciamo a mettere a fuoco buonasera a tutti voi eccoci qua finalmente ci siamo fatevi sentire fatevi vedere come sentite come vedete da dove siete collegati questa è la nuova diretta sia sulla pagina mente giovane di facebook che sulla pagina brain care di instagram come sentite come vedete fatemi sapere collegatevi siete sempre più numerosi scusate il ritardo buonasera da brindisi valeria buonasera buonasera a tutti voi diretta ancora dedicata alla memoria è la centoquindicesima diretta pensate 115 dirette sono tante veramente tante ma vediamo se riusciamo a mettere un po a fuoco perché mi sembra un po fuori fuoco vediamo 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 ok ok bene come state da dove siete collegati come si vede come si sente bene bene sono contenta non è suocato bene allora questa diretta è dedicata al nostro archivio più prezioso la memoria pensate cos'è la memoria come funziona e come la si mantiene per una mente giovane ed è dedicata ad una parte nuova della memoria la diretta scorsa è stata dedicata sempre alla memoria ma oggi vedremo aspetti nuovi della memoria e vi ho messo una frase di milan kundera che proprio è l'apologia della lentezza e che ci dice questo ve l'ho messa proprio nel titolo della diretta nella matematica esistenziale il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio quindi quanto più siamo veloci tanto più dimentichiamo tanto più siamo lenti tanto più invece possiamo avere una buona memoria questo perché per memorizzare occorre mantenere una buona lentezza di analisi degli stimoli c'è una buona capacità di analisi degli stimoli bene allora sono contenta di essere qui con voi siete sempre numerosissimi scusate i due minuti di attesa iniziali vi ho messo questa bellissima frase di kundera nel titolo e oggi vedremo degli aspetti diversi dalla diretta della settimana scorsa di due settimane fa anzi la diretta dal vivo di due settimane fa era dedicata soprattutto a memoria nel breve nel lungo termine ed era dedicata a quali sono le fasi per la memoria quindi la codifica dell'informazione l'immagazzinamento e infine il recupero quindi questi aspetti andateli a rivedere nella diretta di due settimane fa la centoquattordicesima oggi nella centoquindicesima parleremo di altri sistemi di memoria e vedremo come aiutarci a migliorare la nostra memoria siete sempre numerosissimi buonasera poi federica da padova pietro da ferrara valeria da milano buonasera a tutti bene allora oggi affrontiamo un altro aspetto ancora che è quello della differenza tra memoria dichiarativa cioè quello che io dichiaro quello che dico quello che racconto quello che di cui io sono consapevole e la memoria invece procedurale che la memoria automatica quello che faccio senza pensarci quello che faccio in modo proprio ormai automatizzato sono due sistemi di memoria diversi e con anche aree cerebrali diverse pensate che la memoria episodica quella dei fatti quella delle informazioni è a livello della corteccia viceversa la memoria procedurale quella delle esperienze anche motorie e delle attività che facciamo in modo automatico avviene a livello proprio dei gangli della base della parte più profonda dei nostri emisferi ed è molto collegata anche a tutto il sistema limbico quello emozionale di questa memoria cioè della memoria procedurale della memoria automatica implicita ne parleremo nella diretta tra due settimane quindi tenetevi collegati perché questa memoria molto importante perché è quella che meno facilmente decade quindi possiamo fare affidamento su di essa stasera parleremo della memoria degli episodi dei fatti della memoria di ciò che ci accade ok e mi farebbe veramente piacere condividere con voi anche le vostre esperienze infatti poi vi farò un questionario non vi preoccupate allora vediamo un po nella memoria dichiarativa quella che io dichiaro dichiaro delle cose delle informazioni su quello che capita a me o su quello che capita nel mondo in questa memoria dichiarativa infatti abbiamo due grandi differenze innanzitutto la memoria diciamo dei fatti degli episodi di quello che succede ok e poi c'è la memoria invece delle conoscenze quello che io conosco le mie esperienze quello che ho studiato quelle che sono le conoscenze che poi sono uguali a tante altre persone o comunque persone che hanno ad esempio la mia professione facciamo l'esempio la memoria episodica quella dei fatti è ricordarmi esattamente che cosa stavo facendo quel giorno in quel momento storico invece la memoria semantica la memoria delle mie conoscenze io so per esempio che la capitale d'italia è roma ma non mi ricordo quando l'ho imparato lo so probabilmente dalla prima elementare o forse perché i miei genitori mi hanno accompagnato a roma quando ero molto piccola io so che roma è la capitale d'italia ma non ho la conoscenza di quando l'ho imparato invece la memoria episodica ci dice esattamente quando ho imparato qualcosa ci dice esattamente un contesto spazio temporale specifico preciso quindi la memoria semantica sono le conoscenze e la memoria episodica sono è la memoria dei fatti degli episodi con una data con una precisa collocazione temporale con una precisa collocazione anche spaziale ecco inoltre volevo dirvi un'altra cosa poi vi farò una piccola domanda la memoria dei fatti la memoria episodica quella appunto che ha un contesto spazio temporale molto preciso è una memoria che si può dividere in fatti storici cioè fatti per tutti uguali quello che è successo nel mondo e fatti invece personali quindi la memoria autobiografica la propria vita le proprie esperienze di vita quindi abbiamo veramente la memoria dei fatti storici e autobiografici e la memoria invece semantica quella delle conoscenze sono tre sistemi di memoria molto diversi e vedremo che cambiano anche in modo diverso con l'età pensate a quanti aspetti noi possiamo veramente scoprire all'interno dei sistemi di memoria non esiste una sola memoria esistono tanti tipi di memorie quindi ripetiamo nella memoria diciamo dichiarativa quella di cui sono consapevole che trattiamo questa sera abbiamo la memoria semantica che è quella delle conoscenze e vedremo come decade o meno con l'età e poi la memoria invece episodica la memoria dei fatti che quella invece delle appunto con una connotazione spaziale temporale molto precisa e che si divide poi in memoria per i fatti storici e memoria per i fatti personali quella autobiografica bene allora vi faccio un esempio per esempio facciamo così se io dicessi l'11 settembre che cosa ci evoca l'11 settembre l'11 settembre ci evoca sicuramente un fatto storico che tutti noi conosciamo ok quindi la strage delle torri gemelle dell'11 settembre ma questa è una conoscenza semantica se noi la studiamo sui libri viceversa se ci ricordiamo esattamente che cosa stavamo facendo quel momento in cui collegandoci alla tv o restando proprio magari c'era anche chi era a new york tra di noi io ero davanti al televisore cosa io stavo facendo quando ho sentito questa notizia tragica drammatica come tutto l'ospedale a quell'ora si è fermato perché era più o meno l'ora di pranzo in italia io lavoravo in ospedale e come ci siamo fermati tutti davanti al televisore quindi questa stessa conoscenza cioè l'11 settembre ma anche come io l'ho vissuto quindi nella mia memoria autobiografica fa l'informazione ancora molto più ricca molto più sostanziosa è diverso diciamo studiare un fatto storico sui libri di storia viceversa è tutta un'altra cosa vivere il fatto storico anche con delle conoscenze con delle informazioni episodiche proprio autobiografiche personali pensate alla grande differenza che c'è quindi abbiamo degli aspetti emozionali molto più forti quando abbiamo sia la memoria semantica di quello che succede di quello che sono le conoscenze del mondo collegata alla memoria episodica audiografica e noi memorizziamo sempre in modo molto complesso in modo molto articolato quindi non possiamo pensare di avere solo memoria semantica o solo memoria episodica bene allora grazie dei grazie 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 a voi dell'incoraggiamento grazie anche al fatto che vi piace l'argomento che ho scelto molto bene sono contenta bene allora la memoria episodica autobiografica quella dei fatti personali però non si può staccare dai fatti storici dei fatti della collettività pensate questo momento storico tutti noi stiamo vivendo un momento storico molto particolare nel 2020 questo semi lockdown che stiamo vivendo e oppure ci ricordiamo lockdown dei mesi di marzo aprile parte di maggio veramente ci ricorderemo per sempre il 2020 però questa memoria autobiografica personale si unisce poi alle memorie autobiografiche degli altri noi abbiamo vissuto molte session insieme proprio molte sedute insieme molte dirette insieme durante il lockdown mi ricordo benissimo e quindi anche la memoria mia autobiografica con la vostra memoria autobiografica insieme fanno una memoria storica che è l'insieme di tutte le nostre memorie autobiografiche pensate a quanto appunto diventi la memoria autobiografica di ciascuno collegata alle memorie autobiografiche degli altri una memoria collettiva e mi sembra interessante parlare di memoria collettiva perché ci fa sentire meno soli in qualche modo quindi io ho una mia memoria autobiografica ma so che posso collegarla alle altre memorie autobiografiche che cosa ci dice moris albock sulla memoria collettiva non basta ricostruire pezzo a pezzo l'immagine di un avvenimento passato per ottenere un ricordo bisogna che questa ricostruzione sia fatta partire da dati e da nozioni comuni che si trovano dentro di noi tanto quanto negli altri quindi sia in noi che negli altri perché passano senza sosta da noi a loro e reciprocamente questo è possibile solo se tutti fanno parte e continuano a far parte di una medesima società quindi quando noi condividiamo delle informazioni storiche e insieme come noi viviamo questa informazione storica da un punto di vista autobiografico e condividiamo le nostre emozioni su questi fatti storici sicuramente questa diventa una memoria collettiva sicuramente ci ricorderemo tutti di questo anno e spero ne faremo poi tesoro per i prossimi anni per le prossime esperienze future quindi abbiamo proprio una pluralità delle memorie autobiografiche all'interno della memoria collettiva della società possiamo anche dire che la memoria storica è una memoria un po schematica una memoria per fatti un po come nei libri di storia dove abbiamo tante date tanti fatti però è molto schematica è molto poco dettagliata invece la memoria topografica quella personale è una memoria molto più emotiva molto più emozionale molto più ricca di aneddoti diciamo ed è meno schematica e a volte facciamo dei flashback torniamo indietro nella nostra memoria topografica poi torniamo avanti abbiamo un po dei déjà vu e quindi la memoria topografica è molto più complessa di quella storica che invece è un po più come nei libri di storia schematica bene allora vediamo un po intanto vi faccio una domanda che è molto semplice io direi che vi chiedo subito la vostra memoria storica quella storica dei fatti del mondo com'è rispetto alla vostra memoria autobiografica tra le due memorie quella storica dei fatti del mondo e quella autobiografica vedete differenze vedete aspetti diciamo che vi interessano di più in alcuni nella memoria storica o nella memoria autobiografica ma soprattutto come si comporta vi sembra di avere una buona memoria storica e di avere una buona memoria autobiografica mi piacerebbe veramente condividere con voi perché sono aspetti importanti perché nel corso degli anni che passano la memoria dei fatti personali autobiografiche la memoria dei fatti storici può calare con l'età può diciamo soprattutto negli ultimi mesi negli ultimi anni può un po affievolirsi può un po sbiadirsi però non è detto dipende anche da molti fattori dipende anche da quanto la persona attiva dipende molto dalla motivazione della persona quindi mi farebbe veramente piacere condividere vediamo io riesco a rispondere su facebook ma non riesco a rispondere perché non vedo le domande su instagram per cui vi chiedo di scrivere io vi risponderò su facebook allora vorrevo sapere se ditemi ok perfetto vediamo se ok se abbastanza a fuoco ok allora raccontatemi un po com'è la vostra memoria dei fatti storici e com'è la vostra memoria dei fatti personali avete visto una caduta della vostra capacità di ricordare fatti storici e fatti personali una caduta diversa o uguale ok raccontatemi un po di voi potete scrivere io sono qui che vi rispondo qui vi rispondo ottimo ok bene tanto vado avanti così vi dico anche altre cose innanzitutto nella memoria semantica che quella delle conoscenze del mondo nella memoria delle di ciò che io conosco del mondo quello che io studio sui libri quello che apprendo con la mia professione non c'è soltanto appunto lo studio ma c'è anche l'esperienza che faccio di ciò e quindi tutto ciò che io ho imparato per esempio con i miei pazienti tutto ciò che ho imparato nei libri di medicina e poi si è esplicitato si è diciamo verificato nella pratica clinica e nell'esperienza proprio clinica e questo diventa ancora più profondo ancora più impalpabile tanto da non poter essere tutto descritto in un libro di medicina quindi l'esperienza è molto più ricca di quanto noi possiamo studiare su un testo e l'esperienza vuol dire tante altre informazioni che comprendono anche in parte la memoria procedurale cioè la memoria di tipo automatico. Bene allora vediamo un po' ok Yolanda o finalmente qualcuno mi risponde Yolanda grazie mille perfetto allora Yolanda ci dice la mia memoria storica nozionistica è scarsa la memoria topografica del mio vissuto mi sembra migliore perfetto allora diciamo che la memoria dei fatti potrebbe anche non essere diciamo necessariamente una memoria nozionistica cioè dei fatti storici potrebbe essere una memoria storica che si basa anche proprio sulle esperienze vissute rispetto a questi fatti storici quindi non è sempre solo nozionismo ecco Yolanda ti voglio dire però sicuramente la nostra vita sembra quasi un film no la nostra vita forse più interessante la nostra vita la vita dei nostri cari le storie delle persone sono sempre molto più accattivanti sono molto più interessanti e quindi ce le ricordiamo meglio perché quanto più i fatti sono interessanti intricati e anche a volte assurdi no quanto più non c'è nulla di più assurdo della verità e della realtà cioè quello che capita nella vita di una persona a volte è impensabile nessuno potrebbe neanche scriverlo in un film o in un libro quindi quello che dico è che sicuramente il nostro interesse per le storie delle persone è molto alto e impariamo tantissimo dalle storie delle persone quindi forse ci ricordiamo meglio quindi grazie tantissimo Yolanda per la tua condivisione bene poi per Giorgio buonasera io ricordo bene gli eventi del passato soprattutto quelli che mi hanno lasciato un'emozione sì per Giorgio allora metto anche a te mi piace perché dei fatti storici personali cioè dei fatti autobiografici in genere ricordiamo meglio quelli del passato perché quelli del passato sono ormai già tante volte ripetuti ripassati li abbiamo già ripetuti ad altre persone o ripetuti dentro la nostra mente più volte abbiamo sempre confrontato i nuovi fatti con i vecchi fatti quindi i vecchi fatti li abbiamo un po come ripassati tante volte e quindi proprio per questo motivo ce li ricordiamo di più i fatti nuovi invece li abbiamo ripassati poche volte quindi non abbiamo avuto modo di ripassarli e poi i fatti nuovi magari vengono appresi in un momento della vita in cui la nostra capacità di apprendimento non è più quella dei vent'anni quindi questi sono i due motivi per cui tu potresti avere una memoria dei tuoi fatti personali autobiografici migliore per quelli molto lontani rispetto ai fatti più recenti bene grazie delle vostre condivisioni sono sempre molto preziose allora innanzitutto devo dire che la memoria autobiografica cioè quella dei fatti personali ha una grande utilità vediamo l'utilità della memoria autobiografica veramente la memoria dei fatti è molto molto utile vediamo in che cosa è utile è utile per almeno tre punti ma prima di dirvi questi tre punti volevo leggere ciò che stefano ci ha condiviso la mia memoria dei fatti storici è buona perché è legata all'emotività mentre sono un po carente nella memoria topografica ok grazie stefano evidentemente tu vivi molto le emozioni per i fatti storici per i fatti che sconvolgono anche l'umanità pensiamo a questo periodo covid oppure pensiamo appunto all'11 settembre oppure pensiamo io mi ricordo adesso non mi ricordo l'anno esattamente ma nella guerra in Bosnia mi ricordo che il ponte di Mostar quando fu fatto saltare un ponte bellissimo romano con un arco un arco gotico molto acuto io piansi di fronte al televisore quando si videro proprio le immagini di questo ponte che fu fatto saltare perché l'anno prima era andata in vacanza avevo visto il ponte di Mostar e quindi questo fatto storico come dice il nostro stefano si lega si può legare alle emozioni che noi viviamo per quei fatti storici e quindi colleghiamo molto lo storico l'autobiografico la mia emozione la mia emotività rispetto a quelli che sono i fatti storici che poi sconvolgono il mondo anche quando abbiamo una grande diciamo connotazione emozionale e anche quando viviamo i fatti storici come fatti della collettività e fatti importanti per tutti che quindi vanno a modificare la nostra società quando diamo molto peso ai fatti storici anche dal punto di vista emozionale quindi ti ringrazio tantissimo stefano per la tua condivisione valeria sono entrambe sullo stesso piano benissimo valeria ok quindi abbiamo ripassato un po adesso invece vi faccio un'altra domanda la memoria semantica cioè la memoria quella delle conoscenze quello che voi avete studiato sui libri quello che avete studiato per la vostra professione quello che avete proprio appreso anche per il vostro lavoro non solo la vostra scolarizzazione ma anche quello che avete appreso le procedure le norme tutto quello che in un lavoro si deve apprendere durante la nostra vita non ci ricordiamo quando lo abbiamo appreso quindi non è un fatto preciso dal punto di vista temporale e spaziale ma sappiamo fare quella cosa sappiamo come funziona sappiamo qual è quella norma non ci ricordiamo quando abbiamo imparato quella regola però ce la ricordiamo ecco questa memoria cioè la memoria semantica la memoria delle conoscenze com'è in voi rispetto la vedete ancora molto buona la vedete in calo vi rendete vi rendete conto che la vostra capacità anche di apprendere nuove conoscenze preservata vi preoccupa il calo di memoria semantica mi farebbe veramente piacere condividere quindi la memoria semantica la memoria delle conoscenze quello che io studio quello che imparo quello che anche esperisco nel mio nella mia professione ma che soprattutto devo imparare come conoscenze del mondo ok condividete pure con me questi aspetti allora la mia memoria semantica veramente cresce ogni giorno è bellissimo scoprire a me piace anche sondare aspetti semantici un po diversi dalla mia professione della mia professione di medico quindi mi piace studiare filosofia scienze umanistiche studiare arte veramente se io potessi fare iscrivermi ad una nuova facoltà studierei per esempio scienze della comunicazione mi piace molto tutto ciò che è umanistico filosofico scienza della comunicazione e quindi sì mi piacerebbe veramente poi il tempo un po tiranno a volte ci dedichiamo a letture nel weekend o a corsi nel weekend però ne approfittiamo fare poco è sempre meglio che non fare nulla no quindi a me piace molto ampliare la mia memoria semantica vediamo un po' iolanda ricordo poco le nozioni studiate a scuola mentre ricordo bene le cose vissute da me anche all'età di tre anni ricordo bene i fatti storici dei quali posso dire io c'ero bene grazie iolanda della tua condivisione allora vi devo dire che se non sentite la perdita della memoria semantica questo è un dato molto positivo perché purtroppo nei quadri di deterioramento cognitivo proprio quando si parla di non invecchiamento fisiologico ma quando si parla proprio di invecchiamento patologico della nostra memoria non sono tanto i fatti storici o i fatti autobiografici che vanno a calare ma vanno a calare purtroppo le memorie delle conoscenze cioè la memoria semantica la memoria di quello che io so del mondo che mi fa anche sopravvivere cioè so che il fuoco brucia so che ci sono dei rischi dei pericoli so che bisogna avere delle scadenze per poter poi presentare la dichiarazione dei redditi e così via quindi tutte queste memorie semantiche sono quelle che vanno colpite soprattutto nell'invecchiamento patologico ma non nell'invecchiamento fisiologico quindi se noi abbiamo una buona preservazione della memoria semantica questo è un dato molto positivo vi tranquillizzo ecco da questo punto di vista bene no ecco Yolanda nozionistica e semantica sono la stessa cosa mi piace moltissimo la tua domanda quindi grazie della tua domanda adesso ti dico che non sono la stessa cosa allora la memoria semantica sono le conoscenze insieme alle esperienze quindi quello che io conosco del mondo ma anche come io l'ho esperito come io l'ho metabolizzato come io l'ho digerito quindi se sei solo conoscenze senza esperienza e nozionismo se sei conoscenza più esperienza e memoria semantica quindi la memoria semantica è quella pratica applicativa quella che tu puoi proprio usare nella vita di tutti i giorni il nozionismo a volte è proprio fine a se stesso è proprio dell'erudita ma appunto è un nozionismo freddo sterile mentre la memoria semantica una memoria che è sia nozioni ma anche applicazioni quindi nozioni applicazioni fanno la memoria semantica grazie della domanda Yolanda è molto molto opportuna molto pertinente e quindi dividiamo nozionismo che solo appunto nozioni da memoria semantica che nozioni e anche elaborazioni di queste nozioni quindi è proprio esperienze ok bene mamma mia quante belle domande quante belle condivisioni mi fa molto piacere adesso volevo raccontarvi della memoria autobiografica quali sono i fini della memoria autobiografica c'è proprio degli scopi ben precisi ha tre scopi precisi la memoria autobiografica pensate tre sono non sono pochi sono tanti allora il primo scopo è la pianificazione del comportamento cioè io grazie alla mia memoria dei miei fatti quindi mia memoria autobiografica posso pianificare i comportamenti futuri poi lo vedremo adesso ve li dico tutti e tre poi li vediamo uno per uno quindi pianificazione dei comportamenti futuri secondo punto garantire un senso di continuità della propria storia cioè sentire che la nostra storia è lungo una linea temporale non ha interruzioni ok non è che perdiamo un anno della nostra vita noi abbiamo un giorno ma non solo un giorno un'ora dopo un'ora e dopo giorni e giorni dopo settimane dopo anni abbiamo una vita che continua quindi la continuità e poi terzo scopo è proprio organizzare le interazioni sociali cioè la memoria autobiografica ci permette di entrare nell'azione con gli altri nel tempo ecco questi sono tre scopi fondamentali della memoria autobiografica quindi perdere la memoria dei propri fatti personali è un problema perché ci fa perdere questi tre aspetti l'aspetto della pianificazione del comportamento l'aspetto del costruire una continuità della nostra storia della nostra linea temporale e il terzo entrare in relazione con gli altri adesso li vediamo uno per uno così li spieghiamo meglio mi sembra che sia molto interessante approfondirli bene ok allora innanzitutto il proprio comportamento viene proprio futuro è guidato dalla memoria autobiografica questo perché la memoria autobiografica ha lo scopo principale di sì certo darci la linea temporale della nostra vita ma anche aiutarci a scegliere per il futuro qual è la decisione migliore quindi tutta la nostra esperienza ci permette di dire tra A e B cosa è meglio fare A o B magari quando ero giovane avrei fatto A ma adesso che ho più esperienza faccio B perché mi rendo conto di quelle che sono state le conseguenze mi rendo conto che le conseguenze non sono soltanto per me ma sono anche per le altre persone che posso far soffrire altre persone posso dare delle conseguenze o dal punto di vista morale etico comunque che danno o diciamo una ricaduta funzionale ecologica disastrosa e quindi è bene che io tenga presente quando decido della mia vita futura comunque di tutte le mie esperienze passate questo è un aspetto molto importante cioè il primo scopo della memoria autobiografica è proprio quello di come vi dicevo pianificare il comportamento futuro e questo è un aspetto determinante e secondo aspetto importante è garantire proprio la continuità del sé cioè se noi abbiamo memoria dei nostri fatti passati memoria del presente poi riusciamo a pianificare nel futuro abbiamo una linea temporale che si mantiene proprio unitaria e si mantiene continua senza interruzioni e soprattutto vediamo che il nostro agire è un agire anche coerente cioè quello che faccio oggi è in coerenza con quello che ho fatto ieri poi magari posso avere anche dei cambi di decisione improvvisa dei registri nuovi posso sperimentare nuove situazioni ma non è che mando all'aria tutto quello che è successo prima è difficile che possa diciamo non tener conto delle esperienze passate oppure sono state così dolorose magari scelgo cose completamente nuove però ci deve essere un motivo c'è sempre una correlazione tra quello che ho vissuto nel passato e quello che decido per oggi e per il futuro quindi c'è proprio la possibilità di dare una linea temporale meravigliosa proprio una linea continua senza interruzioni poi abbiamo l'ultimo punto l'altro obiettivo della memoria topografica il test terzo punto del obiettivo della memoria topografica è proprio quello di sviluppare mantenere relazioni sociali cioè la capacità se io mi ricordo quello che ho fatto e ricordo quello che ha fatto l'altra persona e condividiamo le nostre memorie topografiche riusciamo a entrare in una relazione con l'altro le due memorie topografiche che si parlano creano una relazione è molto bello no anche quando due persone si conoscono amici dell'infanzia che ricordano le cose passate insieme le emozioni passate insieme la condivisione permette di creare legame con le altre persone in una coppia questo succede tra genitori e figli quando si vanno a prendere le foto di quando i bambini erano piccoli e si vanno a rimembrare un po' le emozioni e i fatti passati insieme c'è veramente una condivisione la la foto della della classe a fine anno scolastico non è che chi è che non se va a riguardare ogni tanto no e questa è una condivisione con altre persone poi ci sono persone che sono più legate alla condivisione anche dei fatti autobiografici molto passati altre persone che invece un po vogliono tagliare con il passato però comunque si crea relazione con gli altri questo è il terzo grande scopo della memoria autobiografica bene sappiate che quando siamo giovani usiamo la memoria autobiografica soprattutto per fare scelte future e per dare continuità alla nostra vita quando siamo un po più age dopo i 50 anni usiamo la memoria autobiografica soprattutto per entrare in relazione con gli altri vedete quante meraviglie cioè tanto più invecchiamo tra virgolette ma sempre all'interno di una mente giovane tanto più usiamo la memoria autobiografica per la condivisione con gli altri proprio per la per lo sharing per la condivisione per mettere in comunione con gli altri mentre quando siamo giovani intorno ai 30 anni usiamo la memoria autobiografica per fare progetti per il futuro e per vedere una continuità della nostra identità della nostra vita bene 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 allora adesso vi leggo una frase di virgilio che questa nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo questa frase di virgilio pensate tratta dalle neide parla di euralio e niso due giovani guerrieri simboli di bellezza e amicizia eterna che sono morti in fuga da troia e questa frase pensate è stata ripresa e campeggia a new york sul muro del museo dedicato proprio alle vittime dell'11 settembre del 2001 questa frase di virgilio nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo quindi qui proprio rimane un fatto storico fondamentale per tutta l'umanità un po quello che diceva anche stefano quando è un fatto storico così potente così che modifica totalmente la storia degli eventi per tutti e modifica anche il nostro la nostra storia autobiografica perché lascia un segno molto forte dal punto di vista emotivo bene ci siamo bene bene parliamo adesso di come il sonno aiuta la nostra memoria pensate il sonno ci può aiutare a memorizzare quindi vorrei spendere due parole su questo meraviglioso momento delle nostre 24 ore il sonno il sonno aiuta le funzioni cognitive ma aiuta soprattutto la memoria e c'è una fase del sonno che quella delle onde molto lente questa è la fase proprio dove tutti gli ricordi delle ultime 24 ore dell'ultima giornata vengono rivissuti vengono rivisti come in un film tutti i frame tutte le immagini della giornata ritornano rapidamente nella mente della persona soprattutto in quella fase anche dei movimenti rapidi oculari e la persona quindi rivede in un film le immagini della propria giornata questo ci permette quindi di ripassare le informazioni per poterle non solo appunto immagazzinare ma poi dopo pochi giorni o anche molti giorni dalla giornata attuale che abbiamo appena vissuto anche per andare a ripescare quelle informazioni quando ci servono quindi il sonno serve sia per immagazzinare sia per ripescare e inoltre il sonno se ci dà riposo la mattina quando ci svegliamo siamo molto attenti e quindi se siamo attenti abbiamo una buona lucidità riusciamo anche a stare più attenti agli stimoli ambientali e quindi riusciamo meglio a memorizzare e quindi abbiamo anche questo grande vantaggio il sonno quindi non solo aiuta la memorizzazione e ripescare le informazioni della giornata prima ma se il ristoratore permette anche una buona attenzione per ricordare per poter apprendere per poter stare attenti a quelle che sono le informazioni nuove della giornata che verrà quindi è veramente il sonno fondamentale e quindi per avere una buona memoria per avere una mente giovane bisogna dormire bene io dico sempre che uno degli aspetti fondamentali della nostra vita è un buon sonno sono di qualità che non necessariamente un sonno lungo ma deve essere un sonno di qualità e quindi è importante dedicare proprio un tempo al nostro sonno ok stefano ci chiede quante ore dovremmo dormire per la memoria dopo i 60 anni allora stefano non c'è una regola precisa per tutti lo devo anticipare e però quello che è importante è ricordarci che noi dobbiamo almeno avere 4 5 cicli rem non rem e ciclo rem non rem è un ciclo che vede appunto sia la parte rem diciamo profonda del sonno che la fase non rem meno profonda del sonno questo ciclo che ha una durata variabile di 40 45 minuti fino a un'ora un'ora e mezza deve essere ripetuto senza stacchi almeno 4 5 volte quindi nel momento in cui una persona mettiamo un ciclo rem non rem di un'ora dovrebbe durare almeno il suo sonno ben 5 ore ok ma se il suo ciclo rem non rem un po più lungo dovrebbe dormire di più quindi se tu fai un'ora e mezza più un'ora e mezza per un'ora e mezza per 4 5 cicli tu vai tranquillamente a 6 ore 7 ore e mezza comunque non bisogna andare mai sotto le 4 5 ore per notte questo è importante anche se il ciclo rem non rem è molto breve anche nel momento in cui 45 minuti mettiamo non possiamo dire vabbè 45 minuti 4 cicli io posso dormire 3 ore quasi 4 ore scarse diciamo che sotto le 4 5 ore è stato dimostrato dalla letteratura che la persona fa fatica ad apprendere nuove informazioni ma non solo ai 60 anni anche negli anni pre i 60 quindi c'è un minimo sotto il quale non andiamo ecco ma non è la durata uguale per tutti come ti dicevo quindi alcune persone hanno bisogno di una maggiore quantità spero di averti risposto bene allora vediamo se ci sono altre domande altrimenti vi cito una frase molto bella di carlos drummond de andrad ora ne ricordo uno prima ne ricordavo un altro verrà un giorno in cui nessuno sarà ricordato sono un po come gli amici no come i conoscenti allora nello stesso oblio si fonderanno è veramente un po agghiacciante no pensare che noi tutti ci ricordiamo degli altri o siamo ricordati dagli altri ma poi ad un certo punto verrà un momento in cui ci ricordiamo di una persona ci ricordiamo di un altro poi non ricorderemo più nessuno e tutti cadranno nell'oblio e noi stessi cadremo nell'oblio e quindi è un po la paura no che abbiamo di non lasciare un segno in questa terra se non attraverso le emozioni dei nostri congiunti dei nostri figli dei nostri nipoti ai quali vogliamo lasciare un eredità no e quindi tutti andremo inevitabilmente incontro all'oblio e questo è naturale su questo devo dire che la non memoria di noi da parte degli altri ci accomuna a tutti e questo è stato un problema per esempio per i grandi della storia che volevano assolutamente lasciare un loro segno e quindi hanno fatto monumenti tombali incredibili per poter essere ricordati opere maestose per poter essere ricordati ma alla fine cadiamo tutti nell'oblio e quindi rassegniamoci da questo punto di vista bene allora avete domande osservazioni ok bene stefano dice è importante aiutarsi la sera con qualche tisana oppure ansiolitici o altre allora stefano sì attenzione agli ansiolitici attenzione agli iproducenti mi raccomando consultate un medico per questo tisane invece quanto ne volete esercizi di autorilassamento trine autogeno esercizi di meditazione tra l'altro noi proprio facciamo anche proprio esercizi per i nostri pazienti per imparare ad autorilassarci quindi trine autogeno per esempio o anche autorilassamento con la tecnica del biofeedback per indurre facilmente il sonno quindi possiamo lavorare prima in self-made però quando non ci riusciamo poi facciamoci aiutare da chi ci può insegnare tecniche di autorilassamento anche senza prendere farmaci ecco prima di arrivare ai farmaci devo dire a parte consultare il medico però ci sono tantissime tecniche che possiamo imparare con degli specialisti della mente proprio che ci permettono proprio di autoindurci il sonno proprio in modo molto naturale molto spontaneo quindi grazie della tua domanda della tua osservazione bene allora abbiamo visto come la memoria fisiologicamente cala quella dei fatti storici o autobiografica mentre cala meno quella semantica se l'invecchiamento è fisiologico se non è patologico quindi so bene che voi mi avete risposto che la vostra memoria semantica è abbastanza buona quindi tranquilli tutti allora volete gli esercizi perché questa sera io do i consigli anzi i consigli della serata poi domani verranno caricati gli esercizi da fare per cinque giorni da qui alla prossima diretta e avete un esercizio al giorno solo un giorno di riposo domani trovate gli esercizi sul gruppo chiuso laboratorio mente giovane come tutti i giovedì mattina e quindi potete fare esercizi tutti i giorni fino alla diretta della settimana prossima questa sera quindi sono proprio esercizi carta penna da fare riceverete proprio dei fogli da compilare e questa sera invece vi do dei consigli che potete applicare già da subito allora la prima cosa da dirvi è che per gli esercizi per i nuovi che sono collegati che sono numerosi bisogna iscriversi al gruppo chiuso laboratorio mente giovane ok allora volete consiglici o no vediamo un po' se me ne richiedete allora consigli pratici questa sera ne ho quattro ok allora prendete carta penna quattro consigli ok allora il primo consiglio è questo attenzione alla qualità e la quantità del tuo sonno ne abbiamo già un po' parlato però ricalco di nuovo questo argomento sottolino di nuovo questo argomento è importante avere una buona igiene del sonno togliere i problemi della giornata almeno un'ora o due prima di andare a letto è importante non fare troppa attività fisica prima di addormentarsi è importante non mangiare subito prima di andare a letto ci sono tante norme dell'igiene del sonno ma soprattutto è importante imparare ad autorilassare la muscolatura e autorilassare la mente quindi esercizi di treno autogeno di autorilassamento possono essere molto utili secondo consiglio mi raccomando secondo esercizio e secondo consiglio diciamo esercita la tua memoria sensoriale quindi stai attento ai sensi ai cinque sensi perché tanto più tu memori tanto più tu usi bene i tuoi cinque sensi tanto più sei attento ai cinque sensi tanto più riesci a memorizzare facciamo un esempio se tu quando sei di fronte ad una persona che conosci per la prima volta non solo sei attento al viso ma sei attento attenta anche alla voce alla inflessione della voce quindi viso è vista la voce la musicalità della voce è udito il profumo di questa persona può essere importante per te ma anche i movimenti come li effettua ma anche quello che è proprio anche il tatto adesso purtroppo le persone non possiamo più toccarle e dare la mano stringere la mano ma il tatto se puoi toccare questa persona può esserti utile a ricordare questa persona quindi veramente ci sono tutti i vari sensi dobbiamo attivarli perché più l'informazione è plurisensoriale tanto più ce la ricorderemo se siamo di fronte a una a un pane croccante appena uscito dal forno sicuramente c'è la vista sicuramente c'è lo scroc che fa il pane croccante quando lo mordiamo ma c'è sicuramente il profumo e anche il sapore e anche il tatto che noi abbiamo sul pane croccante e magari ancora caldo e questa informazione ce la ricordiamo di più quindi sviluppiamo la nostra memoria sensoriale badiamo molto ai dettagli in tutti i cinque sensi per quanto possibile usare tutti i cinque sensi per quello stimolo ok questo è il secondo consiglio della serata mi raccomando poi benissimo abbiamo il terzo consiglio fai esercizio fisico quando vuoi memorizzare sì è così non è tanto fare esercizio fisico perché fare esercizio fisico vuol dire mantenere una buona attività cardiocircolatoria quindi chiaramente anche una buona ossigenazione del nostro cervello questo c'è già lo sappiamo ma è proprio se tu vuoi memorizzare memorizza mentre fai l'attività motoria quindi per esempio memorizza mentre sei su una cyclette e fai una cyclette leggera deve essere un'attività motoria fisica a bassa intensità ovviamente oppure memorizza mentre cammini o memorizza mentre fai le scale veramente se l'esercizio fisico che fai è per te a bassa intensità ti aiuta però attivando il tuo corpo a memorizzare più facilmente ad esempio memorizzo a volte camminando nella stanza ok e proprio collegando ad ogni angolo della stanza le informazioni che devo memorizzare ma questo non perché soltanto voglio collocare le informazioni negli angoli della stanza ma perché anche faccio un atto motorio l'atto motorio è stato dimostrato aiuta la memorizzazione questo ce l'hanno insegnato anche gli antichi greci pensate quando facevano le lezioni peripatetiche quindi si muovevano per fare lezione si muoveva non soltanto il docente ma si muovevano tutti gli studenti e discepoli i discenti che seguivano il grande maestro quindi l'attività motoria a bassa intensità facilita l'apprendimento quindi fatene tesoro mi raccomando e non soltanto fuori dall'apprendimento l'attività motoria è importante importante anche proprio durante l'apprendimento questo è il terzo consiglio il quarto consiglio avete state prendendo appunti mi raccomando è dovete scrivere tutte le informazioni che vi do il quarto consiglio è quando devi imparare un'informazione verbale parla voce alta quindi per esempio devi studiare un testo leggilo ad alta voce oppure devi ricordarti il nome di una persona piacere matteo tu ripeti proprio matteo che bel nome cioè focalizza la tua attenzione sul nome ripetilo ok anche perché così non solo l'hai ripetuto ma lo dice ad alta voce oppure quando non sai se hai fatto una cosa o meno per esempio devi assumere un farmaco sei in cucina devi prendere il farmaco ora prendo la medicina il ditelo ad alta voce perché quanto più tu te lo dice ad alta voce tanto più te lo ricordi meglio hai un'informazione non solo visiva perché hai preso il farmaco lo hai deglutito ma ti sei anche detto sto prendendo il farmaco quindi c'è anche un'informazione uditiva ok mi raccomando tutto ciò che è verbale che potete ripetere ad alta voce senza essere disturbanti per gli altri fatelo perché il parlare ad alta voce non vuol dire essere impazziti ma vuol dire usare il parlare il pensare ad alta voce memorizzare ad alta voce vuol dire utilizzare anche un senso in più che quello dell'udito ok quindi quattro consigli per questa sera quindi sonno mi raccomando secondo vi ho detto memoria sensoriale tutti e cinque sensi mi raccomando terzo movimento durante l'apprendimento quarto voce alta per quanto possibile qua voce alta per memorizzare le informazioni verbali vedete quanti aspetti vi ho detto questa sera tutti e quattro fondamentali anche un po insoliti devo dire non tutti li conoscevate bene allora voi che siete ancora rimasti in diretta e siete stati bravissimi ditemi quali di questi quattro consigli pratici vi piace di più quale volete usare subito da oggi stesso condividete cosa ne pensate di questi quattro consigli intanto mentre scrivete vi racconto qualcos'altro prima di chiudere la diretta vi dico che noi abbiamo tantissimi modi per diciamo partecipare per diventare fanattivi fanattivi poi hanno un loro grande riconoscimento i fanattivi sono colori che mettono like che mettono like non solo nelle dirette ma in tutti i post mettono anche like che fanno recensione alla pagina e invitano amici inoltre i fanattivi sono quelli che partecipano alle attività anche della nostra meravigliosa community quindi non solo partecipano le dirette ma magari fanno gli esercizi e condividono i loro esercizi del giovedì mattina la diretta è il mercoledì giovedì mattina avete gli esercizi il venerdì c'è una sfida cognitiva tra di voi quindi tra di voi potete fare vincitori quindi quante più vittorie ci sono il venerdì tanto più diventate fanattivi il sabato e la domenica io posto un video sulla letteratura scientifica e quindi anche lì condividete fate i vostri commenti poi il lunedì vi è il sondaggio e quindi il sondaggio su un argomento che vi può interessare noi il martedì poi vi racconteremo l'argomento che avete scelto ve lo spiegheremo nel dettaglio in un posto molto specifico molto dettagliato quindi con tutte queste attività potete diventare fanattivi perché diventare fanattivi perché i fanattivi possono avere due livelli di premio il primo premio è il mio libro che è uscito a fine del 2019 e che il libro è un percorso all'interno del cervello con tantissimi esercizi per la nostra mente e questo libro lo potete acquistare nelle librerie cartaceo oppure anche online come ebook ma soprattutto lo potete anche vincere se ce l'avete già lo potete vincere lo potete anche regalare e quindi più fanattivi diventerete ci sono vari metodi per diventare fanattivi vi ho già detto e più potete vincere il libro per esempio potete vincere il libro facendo la recensione alla pagina e invitando tre amici ma non solo i fanattivi possono anche avere la possibilità di fissare un colloquio con me e questo se per esempio mettete like a tutte le dirette che ci sono state finora quindi 114 questa è la 115esima se mettete like a tutte le dirette e fate gli esercizi di un giovedì almeno quindi quelli di domani per esempio voi potete vincere un colloquio con me ma questa sera volevo dirvi un'altra cosa bellissima c'è un altro premio per voi solo per voi che siete collegati alla diretta e che siete rimasti fino alla fine vi dico che noi abbiamo costruito un bellissimo corso il corso memoria senza età questo corso è caricato sulla pagina mente giovane lo trovate lo trovate anche nel titolo della diretta e solo per voi che siete collegati questa sera questa diretta fino alle 18 di domani potete chiedere informazioni per questo corso e solo se lo acquisterete entro le 18 di domani il costo di questo corso sarà del 50 per cento quindi solo per voi pensate questa è una cosa bellissima perché il corso è di ben sette lezioni ci sono cinque libri ebook che regaliamo con tantissimi altri esercizi e quindi avete sette settimane perché io direi di fare una lezione a settimana sette settimane due mesi proprio di concentrazione e di lavoro specifico sulla vostra memoria quindi sarebbe meraviglioso bene io vi ho detto tutto vediamo le vostre condivisioni resta memorizzato il video si tomaino a angelina si può rivederlo tranquilla soprattutto guardati bene i consigli e guardati bene quello che ho detto alla fine dina dire a voce alta quello che faccio spiace quando prendo le medicine per ricordare di averle prese perché a volte mi succede di pormi la domanda me l'ho presa non l'ho presa esattamente questo ti è piaciuto dina guarda fallo vedrai che è molto interessante ma è bello ripetere ad alta voce anche il nome della persona che conosciamo oppure è bello anche ripetere ad alta voce o legge ad alta voce per memorizzare meglio quello che stiamo leggendo iolanda mi piace molto il secondo consiglio quello della percezione multisensoriale molto bene vedrai anche questo ti aiuta ma vi dico anche il movimento è bello il movimento a basso impatto vi aiuta tantissimo a memorizzare bene siete stati bravissimi numerosissimi come sempre molto attivi molto iterativi e quindi io vi do l'ultima frase per questa sera ed è una frase pensate di cedevara ed è una frase che amo tantissimo e che questa udite udite è felice colui che sa dare senza ricordare ed è capace di ricevere senza dimenticare per me è stupenda quindi doniamo 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 senza ricordarci che abbiamo donato e continuiamo a farlo però quando riceviamo ricordiamoci bene di ciò che ci hanno donato perché sarà molto bello restituire molto di più di quello che ci hanno donato io direi che con questa frase vi saluto vi aspetto numerosissimi in queste ore fino alle 18 di domani mi raccomando chiedete informazioni potete mandare un messaggio a messenger di mente giovane e subito maria o chiara vi rispondono della nostra segreteria organizzativa della nostra segreteria scientifica e quindi poi vi rispondono a tutte le vostre domande se lo fate entro domani entro le 18 il costo del corso sarà della metà inoltre vi aspetto anche per vincere il libro che sarà gratuito e per vincere il colloquio con me quindi fate tutto quello che vi abbiamo detto di fare e vedrete che sarà molto interessante continuare a mantenerci giovane la mente direi che siamo perfettamente in orario saluto le persone che sono collegate vi do un grosso abbraccio e vi aspetto alla diretta allora le dirette funzionano in questo modo il mercoledì abbiamo ogni 15 giorni la diretta dal vivo e poi ogni 15 giorni la diretta revival quindi le dirette addirittura di aprile del 2018 quando abbiamo cominciato le stiamo riproponendo perché ci sono dirette bellissime veramente e quindi vi invito a guardare sia la diretta dal vivo che la diretta revival e si alternano quindi di settimana in settimana e ci sono quindi sempre dirette il mercoledì sera e gli esercizi del giovedì ci sono sempre anche per le dirette revival quindi non c'è scampo non potete non lavorare non potete collegarvi e non potete migliorare la vostra memoria non ci sono scuse no excuse mi raccomando ok gli strumenti li avete il divertimento c'è e soprattutto si vedono i risultati quindi vi aspettiamo numerosissimi per vincere il libro per vincere il colloquio con me e magari per vederci anche online con questo corso meraviglioso di sette lezioni un abbraccio a tutti buona serata buonanotte e buoni esercizi e buona attuazione dei consigli che vi ho dato già stasera un abbraccio a tutti voi buonanotte 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 buonanotte